Come fai a stare sereno con i mercati così alti? Sono alti i mercati? In che currency? In dollari? Qual è il problema? Allora, vediamo un po' di dati. I mercati sono effettivamente altini, ok? Questo è lo Shiller PR ratio. Come si può definire un mercato alto? Torniamoci a un po' di didattica. Se siamo dei random walkisti, quindi coloro che credono nella efficient market hypothesis nella versione più pura, non esiste mercati alti e mercati bassi. In ogni momento lanceremo dei nuovi dadi, dadi un po' truccati a nostro favore, ma ogni prezzo è il prezzo giusto per quel momento. Non c'è un i mercati sono alti, i mercati sono bassi. È un modo per fare timing e per pensare di avere un edge sui mercati. In teoria ogni prezzo è quello più sensato per quel momento e il futuro definirà la variazione di prezzo da oggi. Quindi se siamo dei coloro che credono nella efficient market hypothesis, non esistono mercati alti e mercati bassi. Ora, io stesso, che sono un grande fan dell'efficient market hypothesis, riconosco che ci sono degli aspetti extra, che non significa che la invalidano, ma il mondo della finanza, diciamo, da sempre fa delle distinzioni, cioè come dire, la battaglia tra behavioralisti e efficientisti, tra Schiller e fama, è la seguente. I behavioralisti, i comportamentalisti, come si dice, sostengono che no, aspetta, si può dire qualcosa, se i mercati sono alti o sono bassi. Gli efficientisti ti dicono no, non è possibile. Io sto più o meno a metà, su questo qui sono anche un po' più con Schiller, e quindi con i comportamentalisti. E che succede? Succede che alcuni indicatori possono dirci, secondo i comportamentalisti, behavioralisti. Dai, non me rompete il cazzo, behavioralisti. Qualche indicatore è predittivo per futuri ritorni a lungo termine, non nel breve. Nessun accademico serio ti parla di indicatori per vedere il prezzo dove andrà fra un secondo. Non parliamo di trading, di quel tipo di indicatori. Ad esempio Schiller, in alcuni suoi paper, ha dimostrato come l'inverso del price to earning ratio, o dello Schiller ratio, questo che vedete qua in grafico, il suo inverso, che si chiama Earning Heals, EY, è indicativo per i ritorni a 10 anni. Ok? Ha poi ritrattato questa cosa con Excess Cap Eield, Schiller H-C-Y, cioè essenzialmente l'inverso del CAPE meno il risk free rate e questo ha dimostrato che correla le ECY, Excess Cap Eield, cioè uno su CAPE meno il risk free rate sui 10 years bond. E questo correla con i ritorni a 10 anni. Questo è un po' il claim. Che significa? Che quindi secondo Schiller e tanti altri, possiamo guardare al mercato e dire è un po' caro, è un po' economico, non sono mai informazioni che correlano con il breve periodo, ma nel lungo periodo c'è una certa correlazione. E su questo qua ci credo. La stessa teoria, ci credo, c'è degli studi, la stessa teoria è quella che parla del reversion to the mean, cioè il mercato non segue un random walk, quindi Barton Malkiel, Eugene Fama, scusate mi sto dubitando dell'efficient market hypothesis, il mercato non segue un random walk puro, cioè non è tipo un lancio di dadi e si muove a caso, ma tende a tornare, tende a ritornare verso una media, ok? Tende a ritornare. Al momento l'unico random walk che abbiamo avuto, cioè noi possiamo vedere il passato e dire ah gli ultimi 150 anni del mercato americano si muove a caso ma segue una traiettoria nel lungo termine. Su 30 anni è quasi prevedibile questa traiettoria e quindi secondo questa visione possiamo dire se oggi i mercati sono alti e sono bassi. C'è un altro problema, è che se andiamo a vedere i dati storici, il PR ratio ha una media storica di 16, però dal 90 in poi non ha mai tornato a 16, tranne al bottom di questa crisi. Quindi o è dall'89 che ci siamo un attimo sbagliati, oppure effettivamente i mercati attraversano diverse fasi, secondo se fossimo behavioralisti puri e dicessimo però lo Schiller PE è un po' troppo alto, noi è dall'89 che staremmo fuori dai mercati. Quindi chi ci dice che 30 è alto o basso? Ma adesso siamo in una nuova fase, una fase che durerà per tantissimi anni in cui i tassi di interesse sono bassi e quindi il risk free rate è molto basso e quindi la gente è disposta a comprare azioni a 50 volte i loro earnings. Può darsi che il nuovo standard per il PR ratio è 50, non lo sappiamo. Quindi anche secondo teorie comportamentali non so quanto senso abbia basarsi sui dati storici. Qui purtroppo mi tocca ad arretta, mi tocca ad arretta al mio amico Alessandro Pedone. Può darsi e questa è una fase diversa. Però this time is different è una brutta parola, è una parolaccia nei mercati e quindi boh, e quindi boh. Quello che mi viene da fare e che ho fatto in passato è adattare la mia allocazione stocks bond per riflettere queste condizioni di mercato. Da parte di me vorrebbe ridurre l'esposizione nazionaria. È una sorta di timing, non è una sorta di timing, è una sorta di planning. Non sono un timing dicendo adesso riduco, così domani crolla e poi ricompro. No, dico a queste valutazioni che anch'io reputo alte, in effetti se vediamo il PR ratio, il CAP ratio, se vediamo il PR ratio ci mettiamo a piangere. Se vediamo il CAP, stiamo a valori assurdi, stiamo quasi a livelli della dot com. Se vediamo il PE, peggio ancora, anzi no, il PE è buono, ok? Il PE è buono perché non stanno crescendo molto gli earnings. Ok. Il CAP è altissimo, il PE è più basso. Questo è interessante, vuol dire che negli ultimi 10 anni sono cresciuti poco gli earnings, per cui la media della rolling su 10 anni non è così più alta della attuale media price to earning. Il CAP, cyclical adjuster price to earning ratio, è più alto quando quando gli earnings passati erano molto più bassi. Quindi in realtà ho detto una cavolata. Il fatto che sia molto alto il CAP vuol dire che c'è stata un'impennata degli earnings. Ok, diciamo, dovrei un attimo ripassare questi concetti. Comunque, in generale, sì, reputo che i mercati siano un po' alti e ci sta ci sta essere allocati in maniera un po' più difensiva. Non è risk on, risk off, non è 100-0, non vanno fatte queste cose. Grazie. 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 Grazie.